L'arrivo delle belle giornate, delle alte temperature, cresce la voglia di rimanere all'aria aperta, di trascorrere un po' di tempo in compagnia di amici, sorseggiando qualcosa di fresco, ascoltando, perché no, della buona musica. L'aperitivo diventa dunque l'occasione giusta. A Bolzano sta crescendo la voglia di happy hour, tanto che alcuni locali della città sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di persone. Ieri ad esempio con il calar del sole in molti si sono dati appuntamento in zona industriale per l'inaugurazione degli aperitivi lenti del PIVAC, in grado di richiamare gente anche dal vicino Trentino. Un'occasione per ritrovarsi dunque, sorseggiare qualche drink e ascoltare della buona musica. No, questa è la situazione migliore. Caldo, festa e via, dopo il lavoro ci sta benissimo. Sono contentissima perché il caldo fa bene. Sì, bellissima festa. Di chi? Suo. Auguri a loro. Grazie. Che cosa si beve? Bella vista. Il giovedì sera ormai al PIVAC, per forza, perché tutto a Bolzano aspetta questo evento come se fosse l'apocalisse. Venerdì sera andranno tutti al RISE e sabato sera tutti in Piazza Erbe. Come i bolognesi vanno sui colli, noi veniamo qui ed è proprio un bel posto. E che cosa si beve? Corona. E magari un mojito più tardi. Con l'arrivo del caldo, insomma, per molti la voglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta cresce. Non bisogna per forza andare lontano o invidiare i locali milanesi pronti a lanciare nuove mode e trend. Anche Bolzano può offrire spunti davvero interessanti. Quando i met you in the summer Anche Bolzano! Grazie a tutti.